Sì, è un progetto soprattutto per ricordare, partendo da una delle città più belle, la Calabria. Insomma, d'estate Vib e Tropea si vendono, a prescindere dai progetti, ma in questi anni noi siamo stati principalmente mare, montagne e borghi, ma a differenza di altre regioni italiane o come altre italiane, insieme a mare, montagne e borghi, noi abbiamo un'identità milenaria. C'è una Calabria, non a caso siamo stati a Milano un altro giorno a presentare questa Calabria straordinaria e lanciare l'autunno e l'inverno della Calabria. Qui a Monteleone con Capalbi, insomma, nel 1800 c'era la capitale della Calabria ulteriore, insomma, in periodo francese. Dovremmo noi ricordare a noi stessi, che siamo spesso magari definiti negli ultimi 20-25 anni tutti in dranghetista stracci, che non ci rassegniamo a questo racconto, a quest'idea. Non vogliamo negare i punti di debolezza, che combattiamo tutti i giorni. Non a caso qui c'è un sindaco eccezionale come Maria Limard, o Michele Falduto, che è assessore al turismo. Tutti quelli che a livello istituzionale possono fare delle cose, ma l'intero corpo sociale e economico deve recuperare la coscienza di un'identità. Un'identità che c'è stata, che non si nega, che fra mito, realtà, leggenda, ma anche cose concrete, un'identità variegata, che non è soltanto nell'ambito della cultura, ma noi vorremmo sottolineare e dire a chi vuole conoscere la Calabria, che sia un italiano di altre regioni italiane, ma soprattutto sul mercato internazionale del turismo, che abbiamo almeno 100 marcatori identitari distintivi, che non sono gli attrattori. Gli attrattori sono il mare, sono le bellezze dei paesaggisti. I marcatori identitari distintivi, giusto per fare un esempio, il bergamotto esiste solo in Calabria. Il cedro, diciamo, che viene raccolto da intere generazioni di rabbini in alcune parti della Calabria, quindi a Santa Maria, ha le sue specificità, è così come la Certosa, altro. Quindi questa operazione è un'operazione che avrà un comitato scientifico per definire i MID, i marcatori identitari distintivi, cioè non gli attrattori, senza confusione. E questo dobbiamo raccontarlo principalmente a noi stessi, perché dobbiamo riacquisire una consapevolezza anche nostra, che è un po' la grandeur francese, i francesi si sentono grandi. Noi siamo in Calabria, una terra dove si parlano cinque lingue, l'occitano, grecanico, l'arbreche, l'italiano, il calabrese e le somma tutte. Questa è un'operazione che non è un'operazione di marketing, di copertino, è un'operazione di consapevolezza. Assunta la nostra consapevolezza va spiegato e declinato, per cui noi sogniamo e stiamo facendo degli investimenti, perché i primi dieci MID saranno definiti. Ti faccio un esempio, a Crotone, dove ci sono i nipoti di Pitagora, tutti i crotonesi, quindi il teorema di Pitagora. Pitagora plasticamente non esiste, non lo vedi, quindi significa nella segnaletica, nella costruzione. E significa che cosa? Noi a Milano, appunto, davanti a questa platea di stampa nazionale e anche internazionale, lanciamo l'autunno e inverno, perché noi speriamo già il prossimo Natale, abbiamo messo da parte risorse importanti per illuminare la Calabria a festa, dal 6 dicembre al 6 gennaio, crediamo che nel post-Covid la gente non vorrà fare i Capodanno a New York, ma sarà più interessante farli in Calabria, a Vibbo, a Pizzo, ed è ovvio che noi dobbiamo essere attrezzati nei servizi che rappresentano una Calabria diversa, quindi pulmini che ti portano alla Certosa, piuttosto che immaginate come è surreale e avvincente avere i nostri ragazzi ai conservatori, tre archi, un sassofono e ti suonano Gershin, mentre con, alla fine di un giro, di un quad nelle clementine che fioriscono, tu puoi pranzare perché qui abbiamo il sole 335 giorni all'anno. Ecco, questo è un percorso di una costruzione di turismi differenziati, quest'area appunto del Vibonese non c'ha soltanto il mare, ma c'è un'area interna interessante, questo è il valore economico che non è stato mai messo a reddito e noi su questo abbiamo questo progetto diverso di questa Calabria straordinaria. Grazie.